buon popolo per dia a tutti ragazzi io sono mister l'acca e sono qui oggi in compagnia di edo e nadi e oggi vogliamo partire con la nostra avventura sul far cry primer quindi direi partire subito 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 bene ma dove sei qua? all'inizio? si sei sicuro? si e chi è questo? il mamut il mamut i tasti non ce li hanno mai stai basso e segui adesso lui è il suo amore ma cazzo fai su perché? ma cazzo fai su perché? hai scritto sopra? ah e fa mamut neanche il figlio di merda troviamo mamut piccolo cosa hai detto? del cancro e poi mangiamo ma tipo fanno la traduzione forza in linguaggio i tasti non ci vengono sperati fantastico quindi sei piccolo non ma cazzo fai non ci vengono ma cazzo fai 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 cazzo fai Dì come la cazzo fai cazzo fai come stai fai tu? non cazzo fai non cazzo fai non cazzo fai colmi consti ok lanci lanci Lancia la lancia Lancia la lancia Lancia la lancia Lancia la lancia Vai sopra per gli altri Lancia la lancia Dai Lancia la lancia Vai prendi Ho scappato Va bene Mi segui la tua ragazza Eccolo Mi segui la lancia Mi segui la lancia Mi segui la lancia Puoi prendere la lancia? Stai in ghiaccio Dai Mio dio Ultima lancia Buono E' scarso però Ha mancato una fessa Buona caccia Poverino Cucciola Vivi libero No 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 Il primo è venuta perché di capelli cazzo E poi la stronza Allora scusa Eeeh Tu cosa fai? No 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 A allegarlo cazzo quella tigre si è mangiato anche il tic attaccare sei giù adesso devo buttarti giù attaccare o dire attaccare in indietro ti butti giù no scontata comincia a ricattivare o da gioco l'albero ancora si va giù pensati che una volta facevano tutta sta fatica per mangiare immagine io buono noi adesso andiamo al supermercato sei vivo un tuo amico morto io Cristo mia amica sembra piuttosto saccagnato sei vivo no è vivo sta parlando non fermarti no non fermare te ma le confide trovo terra di oros trovo fratelli Uwenda si ho già solo un po' di sangue tranquilli no è meno violente no è meno violente mi piace abbiamo ucciso già effettivamente rispetto a francare 4 non avevo cambiato era vivi libero quando muore la gente vivi libero mano sul petto ragazzi vivi libero vivi libero fratellanza fratellanza si ragazzi la fratellanza la scoprirete presto su quello che tutti la fratellanza la fratellanza la invenzione di nadi eh ahahah e la so giocare molto bene si la via per oros la via per oros ma come parli no? non è possibile a destra c'è qualcosa lì di bianco qua c'è un po' di bianco dietro la montagna è dietro la montagna Ardesia a destra a destra Nadia ci ha abbandonato tornare presto ecco lì ancora il legno Ardesia che avevo visto ancora brillare prima ecco lì in fondo a destra via diritto fantastico e fabbricamo un bellissimo arco guarda che roba che master però a destra bene io direi anche di prendere altre cose altro quello che trovi che non so semmai la tigre partiglia tra d'orso c'è un palmo grazie per il giorno del genere di metà frate premi ti è brutto a raterrano usano la vista per poter evidenziare gli animali scappano se fanno la tua presenza bene abbiamo avuto un piccolo tutorial su come cacciare intanto bisognava raccogliere le cose finchè possiamo raccoglierle non c'è risparmi non c'è risparmi non c'è risparmi si ma dove devi andare eh c'è risparmi trovare qualche animale diceva che la tigre era vicina non è che devi andare a nord guarda ok no ma eh sta scappando tu riesci a stare devi trovare qualcuno avvicinarti piano non c'è il cielo mi ha trattato te nessuno lo so c'è il cielo cos'è non c'è piano qua è passante ci sono è vivo la botella del calcio la vista mi vuole dar farvi la salcamaga eccolo bastardo andiamo a cercare della tigre mi dice che bisogna cercare altre due capri ecco lì è troppo violento mira la testa non puoi far zoom si non è che non c'è chi ecco l'istante non l'ho preso sbaglia troppo questo mirino qua ecco l'istante la testa la testa destra sinistra dai perchè ti perdi è la destra davanti a te dove dove adesso non so hai incerto venti volte intorno adesso non so hai incerto venti volte intorno non so non so non so non so è un po' cosa vuole per fare sarà ma è già in po' di fra in po' di la facione Alex è un po' italiano Sì, è un po' italiano Capitano Sì, non lo vedo qui C'è un po' italiano È un po' italiano E' un po' italiano Sì, non è un po' italiano Sì, non è un po' italiano la città è fatta non ci abbiamo messo non ci abbiamo messo non ci abbiamo messo la notte arriva, devo trovare il po' ok, la minima facciamo poco qua vai sale ok allora, ecco mettiamo poco da capo fantastico ok sono le prime scheggette da fuoco guarda boy scout uno pacchiotta comunque che è io voglio provare adesso non ci più sangue le mani fai ci che è 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 Pantyshastano, guarda la tatticcia mappur baron Sentiero dietro il telefono Non vedo dov'è sentiero nella rima Che like ha però E' una linea bianca dietro il telefono Vuoi dire che c'è di poco Ma in teoria è una linea bianca E' il percorso che ho fatto prima Allora incendia la tua plava però teniamo una torcia Incendia la plava Ho visto il cacciatore Vai Ok Urshasta Vastro D'acqua Per bucciare tutto Per favore ti sei persa E' una cosa molto fantastica Praticamente ha costruito l'acqua e il prezzo Dove che raccoglie Ho messo fuoco Dopo che ha raccoglie Aspetta un attimo Dopo che ha raccolto Cazza fai? Perché è fuoco Che niponzo Vai mi tutti No Vai mi tutti Ha raccolto quello che gli si è via per fare l'arco Si Ha cacciato tre capre Di cui uno non ha cacciato l'acqua da testa Dopo che è morta Dopo ho trovato un rifugio sotto una specie di grotta Ha acceso un fuoco Si E si è bruciato Dopo ho costruito una clava E gli ha dato fuoco per illuminare il sentiero buglio E dove percorrere per andare verso Oros e Wenja Che non so cosa Eccoci qua E si stava bruciando vivo finchè parla Ma stai qui io Via dove fuoco Questa roba Ah Via 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 Tutto perché trovi Tutto perché trovi Tutto perché trovi Tutto perché trovi Tutto 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 perché trovi No Bene ragazzi Come inizio mi è sembrato molto buono Ma molto convinto questo gioco È stato più cruento di quello che pensavo Quindi Quindi Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like E se volete rimanere aggiornati sui nostri video Iscrivetevi al canale E niente Buon paura che vi è a tutti ragazzi